Che è arrivato un rappresentante del Team Italia, ci ha chiesto che sono interessati a noi, che siamo andati forti, eccetera, volevano farmi fare la 125GP l'anno dopo e ci hanno chiesto, tipo, no, tipo, proprio così, me lo ricordo proprio bene, 6.000 euro a gara più le cadute. Ovviamente c'è una cifra inabordabile, più che altro che poi mio padre sia anche un po' stizzito, ha detto, ma non è colpa nostra se suo figlio ha scelto uno sport che non potete permettervi.